allora buongiorno amici ripartiti da fiorenzuola si va in direzione parma fa un freddo della madonna stamattina beh comunque si procede poi attacchi d'ansia ma per ora tutto regolare ci aggiorniamo strada facendo baci a juni si riparte da parma in compagnia di giovanni buongiorno buongiorno ringrazio che mi ha dato il video oggi tutta la giornata oggi è fresco e pranzo e beh l'importante sarà al fresco e niente mo si parte alla volta di legge mili quindi state collegati ci aggiorniamo baciù pocaaa ma ma ci devo si si in quel direggio emilia oppla buonasera squirmers allora provo a fissare la camerina qua comunque mi ritrovo in questo fantastico hotel due stelle con proprietari molto simpatici e non scherzo accoglienza stupenda doccina fatta sono andato anche a mangiare tutto a posto cosa vi posso raccontare di questi primi tre giorni di aver vissuto delle vere e proprie crisi mistiche dove è stato messo in dubbio il mio carattere mettiamola così e solo stasera forse ho risolto ma vi darò conferma nei giorni a venire in ogni caso ringrazio chi mi supporta a livello cervellino che la mia signora grazie donna mia gian steve ieri cono e giovanni oggi ha fatto un gran lavoro per il mio cervello e tutti voi che mi state anche contattando mi state scrivendo veramente in tanti giuro non me l'aspettavo anche perché è una cazzata fatta da borrello sa come tanta cazzata speriamo che questa la riuscimo a portare a termine nel migliore dei modi per ora è certo che domani tappa a Bologna mi aspetta Emanuele Panza e sono felicissimo di questo e come sono felice pure lo stesso modo nel dover ringraziare Giovanni che io ho scritto un messaggio e mi ha disposto con vieni sono a casa ti voglio troppo bene e questo ragazzi ringrazio anche radio ariano centro programma fa un gemellaccio con radio scrivi che mi hanno telefonato oggi in diretta big wave e mister ray ho una nuova call fissata per mercoledì sempre otto e mezza 9 e mezza ma domani sera sicuramente in diretta nel cogito ergo zoom darò altri aggiornamenti e ci sarà da ridere proprio perché ci sarà anche Emanuele con me ragazzi belli io mi butto a letto che è bello ce l'ho il materasso ma meglio cioè la tenda ma se posso usufruire del letto tanto meglio saluto Laura che mi ha mandato consigli oggi pur dicendo che non c'era ma mi ha scritto tanto di quella roba per dove poter cenare dove andare quindi grazie 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 anche a te giovani belli ci aggiorniamo col nuovo video domani sera ciao 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 ciao